Se avete creato da poco il vostro sito WordPress o se avete già un sito ma non riuscite a ricevere traffico dal motore di ricerca dovete per forza di cose sapere che cosa sono i backlink e come potete utilizzarli come strategia di link building. Ora di questo te ne parlerò tra poco. Io sono Roberto Marchesini e oggi in questo video vi spiegherò esattamente che cosa sono i backlink e come li potete andare ad implementare per aumentare il posizionamento dei vostri contenuti sul motore di ricerca. Innanzitutto vorrei dire che Google utilizza attualmente oltre 200 fattori per andare a posizionare i vostri contenuti sul motore di ricerca e come potete ben capire 200 fattori sono davvero tanti. Ora non tutti questi 200 fattori hanno lo stesso peso ovvero ci sono certi fattori che vanno ad influire maggiormente rispetto ad altri per quanto riguarda andare a posizionare i vostri contenuti su Google. E il fattore dei backlink per quanto riguarda la mia esperienza personale ma è stato detto anche da siti molto autorevoli online come ad esempio mods.com è uno dei fattori principali per quanto riguarda andare a posizionare i vostri contenuti su Google. Questo perché andare a creare dei backlink di qualità non è affatto semplice ma oggi in questo video condividerò con voi due strategie che potete utilizzare fin da subito per il vostro sito web. Prima di partire mi raccomando se sei interessato a questo tipo di argomenti lasciami un bel mi piace sotto al video e magari considera di iscriverti al mio canale di YouTube e di attivare la campanella per non perdere i prossimi video che caricherò qui sul canale. Direi di partire con lo spiegarvi che cosa sono i backlink. Ora in sostanza i backlink non sono altro che dei link che sono stati inseriti non all'interno del vostro sito ma su un sito esterno. Quindi detto in modo semplice i backlink non sono altro che dei link che sono stati inseriti sul sito di un'altra persona ma che rimandano al vostro sito web. Questa cosa è molto importante. Ora perché vanno ad incidere molto per quanto riguarda il posizionamento dei vostri contenuti sul motore di ricerca? Beh perché come potete ben capire andare ad inserire un vostro link sul sito di un'altra persona non è affatto semplice ma ci sono varie strategie che potete utilizzare. Una cosa molto molto importante per quanto riguarda la creazione di backlink è quella di andare a scegliere dei blog o dei siti web insomma autorevoli online e i siti web devono trattare argomenti simili al vostro. Vi faccio un esempio. Noi di assistenza a wordpress trattiamo naturalmente gli argomenti di wordpress ma anche per quanto riguarda il posizionamento dei vostri contenuti sul motore di ricerca come ad esempio questo video ok? Ora ad esempio se io voglio andare a creare un backlink che rimande al mio sito web andrò a contattare dei siti web autorevoli online che parlano magari di posizionamento sul motore di ricerca perché è un argomento che è correlato a wordpress quindi le persone che andranno a leggersi l'articolo o la pagina che è stata pubblicata sul sito della persona dove ho inserito il mio backlink ovviamente andranno a beneficiare del contenuto perché leggeranno un articolo per quanto riguarda wordpress ma che comunque è inerente per quanto riguarda la seo infatti quello che vi ho appena detto è esattamente la prima strategia che vi consiglio di andare ad utilizzare per andare a generare i primi backlink al vostro sito web ovvero dovete andare ad utilizzare la strategia del guest blogging o del guest post in sostanza come funziona questa strategia? ebbene dovete semplicemente andare a contattare dei blog o dei siti web che siano abbastanza autorevoli insomma online come detto e gli dovete chiedere se sono disposti ad ospitare un vostro articolo che naturalmente gli scriverete in modo completamente gratuito in cambio ovviamente di un backlink ovvero di un link che rimandi al vostro sito web quindi andrete a creare un contenuto che ovviamente deve essere di massima qualità e all'interno del contenuto andrete ad inserire un link che rimandi al vostro sito web ora potete andare ad inserire un qualsiasi tipo di link nel senso il link potrebbe portare sull'home page del vostro sito oppure su di un articolo che avete scritto sul vostro blog che sia simile all'articolo che avete scritto per questo sito autorevole ora come potete fare per contattare questi siti web autorevoli? semplicemente andate sul motore di ricerca di google e cercate degli argomenti simili agli argomenti che trattate all'interno del vostro blog poi naturalmente aprite i primi siti che appaiono sul motore di ricerca e andate semplicemente a proporgli questo tipo di collaborazione vedrete che diverse persone vi risponderanno certo non tutti vi diranno di sì ma comunque qualcuno sicuramente vi dirà di sì e io lo so per esperienza perché quando ho iniziato con il mio blog di assistenza a wordpress io stesso ho utilizzato questa strategia e ancora comunque giorno d'oggi se vado a creare un contenuto che è difficile da posizionare sul motore di ricerca vado a generare dei backlink che rimandano al contenuto che ho scritto in questo modo naturalmente il mio contenuto si posizionerà più facilmente insomma in alto sulle SERP di google e vi consiglio di fare altrettanto infatti se il vostro contenuto è supportato da dei backlink esterni sicuramente vi posso garantire che si posizionerà meglio rispetto ai vostri concorrenti che non hanno generato nessun backlink ora mi raccomando una cosa a cui dovete fare massima attenzione è che quando andate ad inserire il link al vostro sito web su di un sito esterno dovete andare ad inserirlo senza il tag nofollow questo perché non so se lo sapete ma se ad esempio andate a linkare un servizio promozionale all'interno dei vostri contenuti dovete andare ad inserire il link con il tag nofollow in questo modo il motore di ricerca quando passerà a leggere il vostro contenuto non darà molta importanza al link promozionale che sarete andate ad inserire sul vostro contenuto e ovviamente non volete dare importanza al link che è promozionale quindi mi raccomando che il vostro backlink non deve contenere il tag nofollow ad ogni modo ora vi faccio vedere molto brevemente come potete andare ad inserire un link nofollow oppure un semplice link normale ok ora come vedete siamo su questo mio sito di prova che è sempre assistenzawponline.it.op vado qui su articoli aggiungi articolo ora per andare ad inserire un semplice link qui all'interno dell'edito di wordpress naturalmente andrete a scrivere un testo io scrivo semplicemente testo di prova andrete a selezionare il testo dove volete inserire il link ad esempio io seleziono testo vado a cliccare su inserisci link qui ad esempio vado ad inserire il link al mio sito principale assistenzawponline.it e lo vado ad incollare qui quindi in questo modo il link è stato inserito ora se vado su pubblica e quindi vado a pubblicare l'articolo vedremo che se vado su visualizza articolo facendo il tasto destro con il mouse e andando su ispeziona qui praticamente potete vedere il codice html qui praticamente è stato inserito il nostro link e non contiene nessun tag questo sta a significare che il nostro link è un link do follow che praticamente è esattamente la tipologia di link che dovete andare a creare per inserirlo all'interno del sito dell'altra persona quindi il link deve essere un link do follow invece per andare a creare un link no follow dovete andare qui sull'editor di testo sempre di wordpress o comunque dell'editor visuale che state utilizzando per creare i vostri contenuti dovete posizionarvi appena dopo le virgolette quindi dopo aver inserito il vostro link fate uno spazio e andate ad inserire questa dicitura ok ora le ingrandisco un attimo ad ogni modo la dicitura è questa qui ora se vado a pubblicare la pagina o meglio la vado ad aggiornare se la vado a visualizzare quindi vado a ricaricare la pagina chiudo un attimo ispeziona faccio nuovamente il tasto destro con il mouse ispeziona e ora qui come vedete sul link è apparso rel no follow questo come detto sta a significare che i motori di ricerca non prenderanno molto in considerazione questo tipo di link quindi ancora se dovete andare ad inserire dei link promozionali all'interno del vostro sito web andate sempre ad utilizzare il tag no follow mi raccomando che questa è una cosa molto importante viceversa se dovete andare a linkare un sito molto autorevole all'interno delle vostre pagine andrete ad utilizzare sempre l'inserimento di link standard di wordpress scusate se mi sono dilungato un po' troppo con questa strategia del guest post ma è la prima strategia che vi consiglio di utilizzare per posizionare meglio i vostri contenuti sul motore di ricerca come detto è la stessa strategia che ho utilizzato io all'inizio per iniziare a ricevere le prime visite sul mio blog quindi sicuramente ancora il giorno d'oggi è una strategia che potete utilizzare per il vostro sito web il secondo metodo molto potente che potete utilizzare è sempre quello di andare a contattare altre persone che parlano di argomenti simili al vostro sito web ma questa volta dovete fare in modo che le persone condividano i vostri contenuti sul loro sito web o sui social media ora probabilmente starete pensando ok Roberto ma perché le altre persone dovrebbero condividere il mio contenuto sul loro sito web o sui loro canali social beh il motivo è molto semplice in sostanza quello che dovete fare è andare a creare un contenuto super all'interno del vostro sito dove andate ad intervistare altri professionisti del vostro settore in questo modo se andrete a contattare 10, 15 o anche 20 professionisti che parlano di argomenti simili al vostro potete fargli delle semplici domande loro naturalmente vi risponderanno e naturalmente voi in cambio andrete ad inserire un link al loro sito web questa cosa come potete immaginare tornerà certamente di aiuto a voi ma anche alle persone che vi ha risposto alle vostre domande questo perché le persone esterne ci metteranno poco a rispondere alle vostre domande e in cambio otterranno un backlink in modo completamente gratuito e voi ovviamente otterrete davvero tantissimo e tantissimo traffico al vostro contenuto e questo ve lo posso garantire perché? beh il motivo è semplice tutti i professionisti che sarete andati ad intervistare naturalmente quando il vostro contenuto sarà pronto e lo andrete a pubblicare sul vostro sito web tutte queste persone esterne andranno a condividere il vostro contenuto sui propri social media quindi su facebook, twitter eccetera eccetera quindi immaginatevi quanto traffico riuscirete ad ottenere semplicemente andando a creare un singolo articolo quindi questa strategia è davvero ottima per portare moltissimo traffico verso un vostro contenuto e naturalmente il contenuto ne beneficerà anche per quanto riguarda il posizionamento sul motore di ricerca certo per andare a creare un contenuto di questo tipo dovrete andare ad investire diverse ore del vostro tempo ma comunque è un investimento a lungo termine che vi posso garantire che sarà molto profitevole mi raccomando che se questo video ti è piaciuto lasciami un bel mi piace sotto al video e se non l'hai ancora fatto iscriviti al mio canale di youtube e attiva la campanella così non perderai insomma i prossimi video che caricherò qui sul canale detto questo insomma mi raccomando se volete andare a posizionare meglio i vostri contenuti sul motore di ricerca andate ad utilizzare una di queste strategie o entrambe perché sono davvero molto molto potenti il guest post è una strategia che ho utilizzato io personalmente e vi posso garantire che ho ottenuto bei risultati anche perché una volta che il backlink è stato creato è stato creato per sempre e quindi questa è sicuramente una strategia che vi porterà grandi risultati con il passare del tempo detto questo anche la seconda strategia è una strategia molto importante perché vi permetterà di portare ad avere un molto traffico al vostro contenuto quindi mi raccomando di andare ad utilizzarle entrambe che dire siamo arrivati alla fine di questo video spero naturalmente che il video vi sia stato di aiuto e mi raccomando di andare ad applicare queste strategie non mi resta altro che se aiutarvi e noi naturalmente ci vediamo nel prossimo video